nuovo vlog oggi dopo tanto tempo con la madre andiamo a spendere un po di cash in realtà no è una colla mia madre che ci fa sbagliare le strade perché sta il telefono cioè non sa leggerlo o è cieca o demenza senile ha rischiato comunque il posto si chiama bivio negozi secondante di milano ha 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 yeah Perfetto. Non c'è neanche il plateau. No, non c'è niente. Andiamo a me alla ricerca della scarpa perduta. Adesso arrivo. Ok, va bene. Non riesco a fare una scarpa con questa cenerentola. Niente, scarpa. Ha un piede che non si capisce. È sottile, ma lì non c'è un caldo. È corto, ma poi è lungo. È lungo, però si sta. Vabbè, si appianta l'acqua. Manca solo l'ultimo video, sì. Manca solo l'ultimo outfit. Questa potrebbe essere una roba. Questa potrebbe essere una roba. Si, si. Ok. Oh! Due ore e tre. Due. 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 Due ore. 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 Questo, grazie Quanto d'altro Grazie Ciao, Ant Autista, grazie Autista Sempre la cintura Cintura, la cintura Oh, perfetto Andiamo Andiamo un attimo Perché esci qua? Mi stavo quasi dimenticando Altro giorno, altro mini blog A ritorno Quindi soddisfatta di queste 2000 ore di Scelta di viaggio Di scelta dei vestiti Sì, perfetto Esatto, perfetto Quindi Alla prossima Dio santo Perché non sai frenare No, cioè Il problema è che Mia mamma si attacca Il culo delle macchine Ma non è vero Ma sei veramente falso Tanto la prova Bella Bella